Da oggi in tutta Italia non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto mentre resta l'obbligo negli spazi chiusi. La mascherina resta obbligatoria in tutti gli spazi pubblici al chiuso compresi negozi, centri commerciali ma anche mezzi di trasporto come autobus, metro, treni, aerei o navi. In bar, pub e ristoranti è possibile togliere la mascherina all'interno solo quando si sta seduti al tavolo ma quando ci si alza ad esempio per andare a pagare bisogna indossarla. Secondo gli esperti del CTS sarebbe opportuno comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e la mascherina andrà comunque indossata nei luoghi a rischio di assembramento all'aperto così come sui mezzi di trasporto ma non quando si attavola. Il rischio variante impone però prudenza e così il governo affila le armi per limitare i focolai e l'aumento dei contagi tenuto conto che ci sono ancora 2 milioni e 700 mila cittadini che hanno più di 60 anni e non hanno fatto neanche una dose di vaccino dunque non hanno alcuna protezione contro il covid. In Abruzzo i casi di variante delta sono saliti a 8 segnalati dall'asla di Teramo e da quella di Chieti scoperti grazie alle attività di sequenziamento eseguite dall'istituto zooprofilattico caporale di Teramo. Buona notizia però che i contagi anche in Abruzzo continuano ad essere estremamente contenuti. Sul fronte vaccinale sono 1 milione 191 mila 376 le dosi consegnate in Abruzzo di cui 1 milione 79 mila 340 già inoculate pari al 90,6% e sono 374 mila 142 i cittadini residenti in regione già vaccinati. Nelle ultime 24 ore sono 2 mila 93 gli abruzzesi a cui è stata somministrata la prima dose 1.559 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda mentre sono 10 i cittadini ai quali è stato inoculato il monodose della Janssen. L'ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Abruzzo è di 10.299 di queste 83 sono monodose. Dunque a questo ritmo ci vorrebbero tre mesi e quattro giorni per coprire l'80% della popolazione vaccinabile e l'obiettivo sarebbe raggiunto il 28 settembre 2021 in linea con le previsioni del governo per fine settembre. Tornando alla variante delta i dati del report di venerdì dell'istituto superiore di sanità parlano chiaro. In poche settimane i casi si sono quadruplicati arrivando al 16,8% ma l'indagine veloce che sarà pubblicata nei prossimi giorni con la fotografia al 22 giugno potrebbe rivelare un quadro già molto cambiato con una percentuale di incidenza vicino a una soglia del 20-25% sul totale dei casi che potrebbe far scattare quel nuovo aumento di contagi tanto temuto.